E' stato convocato per domani pomeriggio dalla dirigenza Bianca Azzurra un consiglio d'amministrazione per decidere se è il caso di continuare ad andare avanti e disputare il campionato in Serie D. Il Gela ha vinto il campionato di eccellenza il 17 aprile scorso, ormai più di quattro mesi fa. Scrivono dal club in un comunicato stampa e nonostante quest'enorme tempo a disposizione abbiamo dovuto subire l'esilio a Licata nell'esordio di Coppa Italia di Serie D. Disastroso, ma il calvario non è affatto finito, tutt'altro. Le ultime sconfortanti notizie sul mancato inizio dei lavori per il rifacimento del manto in erba sintetica del Presti e la lettera drammatica di ieri della LND di Roma con la quale chiede di conoscere la data di fine lavori per poter ispezionare finalmente lo stadio, preoccupano la società e gettano nello sconforto tutti i tifosi gelesi. Il presidente Francesco Tuccio, leggiamo ancora nel documento, ha convocato d'urgenza un consiglio d'amministrazione per giovedì alle 15 per valutare attentamente la situazione allucinante che si è venuta a creare a pochi giorni dall'inizio del prestigioso campionato nazionale di Serie D e decidere sulla opportunità o meno di prendere parte alla competizione. L'altra mazzata per gli sportivi gelesi è arrivata pochi minuti fa e riguarda anche l'addio del difensore Gerardo Strumbo. L'esperto centrale di difesa ha deciso infatti di lasciare il club per motivi personali. Lascia un messaggio su Facebook. Dispiace lasciare questa società, questo staff, questo splendido gruppo, questa città e soprattutto una tifoseria come questa che anche se in poco tempo ho avuto modo di apprezzare. Ma purtroppo a causa di seri problemi familiari ho dovuto a malincuore prendere questa decisione di rientrare a casa per cercare di avvicinarmi a casa e stare il più possibile vicino alla mia famiglia. Vi mando un in bocca al lupo per una stagione da protagonisti con l'augurio sincero che il direttore Martello insieme al presidente e al mister possano riportare presto Gela nel grande calcio. Per i tifosi del Gela Calcio dunque ancora nubi all'orizzonte. La speranza è quella di vedere infine triunfare l'azzurro.